Esaminerò le carte e poi esprimerò la mia opinione in merito. Ha preso tempo il ministro alla cultura Gennaro San Giuliano, interpellato dal presidente della regione Gianni sul caso Veronesi, a margine della visita alla galleria degli uffizi a Firenze. Nessuna presa di posizione forte del ministero, quindi solo la conferma che l'esecutivo sta seguendo la vicenda del comitato per le celebrazioni pucciniane, alle prese con un numero record di dimissioni dei suoi componenti. Era stato il governatore Gianni rispondendo ad una interrogazione del leghista Baldini ad annunciare che avrebbe parlato al ministro dell'allarmante situazione del comitato. Il consigliere regionale si era augurato tra le righe che il ministero chiedesse le dimissioni di Veronesi, accusato da più parti di non saper gestire il comitato. San Giuliano invece ha preso tempo. Nel frattempo a Lucca, su richiesta delle opposizioni, per lunedì 6 febbraio è stato convocato un consiglio comunale straordinario per parlare dell'argomento. In ballo c'è la gestione di oltre 9 milioni di euro per le celebrazioni del centenario della morte di Puccini.